E ciao a tutti amici di YouTube, oggi proviamo il primo SDK per Surface Duo, il futuro dispositivo Microsoft caratterizzato da due schermi e con sistema operativo Android. Prima di provarlo vi do alcune info. Innanzitutto è un SDK di anteprima, quindi le funzionalità sono limitate, non complete, visto che Surface Duo è previsto per la metà di quest'anno. Inoltre, se non possedete Windows, non vi preoccupate, perché questo SDK è utilizzabile anche su macOS. Altra cosa da dire, non sto qui a spiegare i dettagli riguardo Surface Duo e il fratello maggiore Surface Neo, perché ci sarebbe tanto da dire e meritano entrambi un video a parte. Per Surface Neo, il dispositivo equipaggiato con Windows 10X, l'SDK sarà disponibile a breve, questione di settimane, così proveremo anche quello in un video dedicato. Dette tutte queste cose, colleghiamoci alla pagina Microsoft dove si può scaricare tale SDK. Tranquilli, lascio tutto in descrizione, anche le pagine di documentazione, che vi faccio vedere velocemente. Poi magari le osservate con calma prima di testare il software development kit. Mentre aspettiamo lo scaricamento, lo zip pesa 620MB, vi informo che la mia app dedicata al canale YouTube sarà sviluppata anche per questi futuri dispositivi. Ecco perché finora ho progettato solo la UVP, mi ero già informato bene prima della presentazione al pubblico di questi prodotti e ho voluto attendere appunto per sviluppare su piattaforma Google. L'SDK naturalmente comprende emulatore e API dedicate, in maniera da sfruttarle per poter implementare funzionalità esclusive. Come detto prima, è possibile lavorare anche su macOS. I passaggi che illustrerò su Windows sono molto simili. Per fare il tutto su sistema Apple seguite le istruzioni nella documentazione che lascio in descrizione e ora andiamo invece a lavorare su Windows. Estraete l'eseguibile che è all'interno dell'archivio scaricato. Successivamente avviate l'exe per poter installare l'SDK. Ci metterà diversi minuti. Al completamento vi suggerisco di dare un'occhiata a Leggimi, dove sono elencate le informazioni e i links che rimandano alle varie documentazioni, se casomai uno avesse perplessità sull'usare l'emulatore. Come vedete qui viene richiesto Android Studio, Android Emulator, Android SDK. Andiamo a modificare un attimo il file batch denominato RAN, che si trova nel percorso di installazione dell'emulatore su Face2 Emulator e qui accedete alla prima cartella, Artifax. Aprite con un editor di testo il file in questione e cancellate l'intero contenuto, sostituendolo col codice che trovate nella documentazione. Questo serve per impostare precisamente il comando set, dove è specificato il percorso dell'SDK. Quest'ultimo deve essere corretto, se no l'emulatore non funziona. Se è modificato rispetto all'impostazione predefinita, sarà necessario aggiornare questo script, in modo che punti al percorso di installazione corretto. Ora è tutto pronto, ma prima di avviare l'emulatore vi mostro velocemente cosa dovete fare se lavorate in Wisa Studio. Prima di tutto bisogna utilizzare la versione 2019, l'ultima. Bisogna poi installare il pacchetto Xamarin, che potete scaricare da Wisa Studio Installer. Nel progetto da testare sul nuovo device, utilizzate Android 10 e installate il pacchetto Nuget Xamarin.duoSDK. Bene, ora avviamo l'emulatore dall'icona creata sul desktop. Allora, 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 aspettiamo il caricamento. Intanto, come vedete, qui ci sono i vari comandi dell'emulatore per gestirlo. Io userò semplicemente il mouse del PC. Magari per spegnere il dispositivo utilizzate il pulsante Arresta, per sicurezza. Non chiudete direttamente il prompt. Ecco che appare la famosa cornice che divide i due schermi. Io direi subito di andare a vedere il centro Notifiche. Nel momento, purtroppo pochi tiles. Visitiamo l'app Impostazioni. Informazioni sull'emulatore. Notate bene la versione di Android, che naturalmente è l'ultima rilasciata. Ecco, perché prima, se ci dovete progettare, dovete mettere come compatibilità questa versione. Vi faccio notare un crash. Apro le opzioni per la lingua. Ed ecco che l'app smette di funzionare. Ne troverete diversi di problemi, ma è normale. Proviamo a spostare la finestra da destra a sinistra. Applichiamo il tema scuro. Diamo un'occhiata agli sfondi di sistema. Per chiudere una finestra, swipe dal basso, e sotto al limite c'è il pulsante per poterle chiudere tutte quante. i widget. Proviamo a navigare ora attraverso il nuovo Edge, basato su Chromium. Testiamo l'emissione del testo da parte della tassiera esterna, quindi del PC, e poi quella integrata del Surface Duo. Lo scorrimento, in generale, il caricamento, fa fatica. Anche se siamo su YouTube, che è abbastanza pesantello con un video in riproduzione. Vi faccio notare ancora una volta la tassiera, utilizzandola per aggiungere un profilo di posta. Come vedete, la tassiera fisica del mio PC non prende la chiocciola, cosa normalissima, perché capita nella maggior parte degli emulatori e macchine virtuali. Perciò l'unico modo per rimetterla è usare naturalmente la tassiera virtuale. Sguardo alla fotocamera, di certo non è possibile utilizzare quella hardware del proprio PC, dovreste attivare una linea di comando che trovate facilmente nella documentazione. Viene raffigodata una casetta, a quanto pare, e fantastica la funzione di trovare sul web contenuti simili partendo da una foto. Questo è l'esempio. Bene, vi ho dato un assaggio di questo nuovo e a quanto pare dispositivo rivoluzionario targato Microsoft. Nel prossimo video vi voglio mostrare Windows 10X, che girerà su Surface Neo e naturalmente a fine anno anche su altri marchi. Per approfondire lascio la documentazione e l'articolo di Windows Blog Italia in descrizione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video.